Il trasporto locale alla prova del primo giorno di scuola, uno degli aspetti più delicati del ritorno in classe degli studenti. Criticità sono state registrate in Val Chiavenna. Per esempio il treno del 707 da Colico diretto a Chiavenna è risultato molto pieno di studenti, pertanto nelle stazioni intermedie non ha potuto caricare altri studenti che sono rimasti a piedi, usufruendo poi del rinforzo bus. E a Trenord oggi si è rivolto con una lettera urgente il sindaco di Chiavenna, Luca della Bitta, chiedendo la programmazione di un servizio adeguato alle esigenze di trasporto del territorio. E' scomparsa una corsa che era importante per gli studenti? Sì, sul fronte treni è scomparsa una corsa che era molto importante per gli studenti diretti sulla tratta Morbegno-Colico. Ed è la corsa delle 13 e 12 e questa corsa scomparsa comporterà poi il dover prendere un'altra corsa successiva alle 13 e 41 con possibili assembramenti. L'appello che rivolgiamo a Trenord è di mettere questa corsa perché questa era una corsa fondamentale per il trasporto pubblico degli studenti. Avete rilevato anche alcune criticità sul viaggio verso Tirano? A Tirano è stato istituito il liceo musicale che raccoglie una certa quantità di studenti. Pertanto la provincia si era impegnata per un bus da Morbegno confermate intermedie caricando gli studenti. Questa corsa è meritoria perché porta non solo una ventina di studenti diretti al liceo musicale ma altri studenti fino ad arrivare a un numero di circa 35 ragazzi. Il problema però è il problema del ritorno perché il treno del ritorno delle 13 e 08 da Tirano è un treno che non effettua fermate intermedie. L'unica fermata intermedia è a Tresenda. Poi arriva a Sondrio invece sarebbe necessario per questi studenti che sono appunto residenti in comuni lungo la tratta di fare delle fermate come la fermata di Ponte, come una fermata a Berbenno o a Dardeno. Oggi in media si è registrato un 20% in meno di studenti a bordo. C'è chi si è fatto accompagnare dai genitori, che ha utilizzato lo scooter, nelle stazioni per evitare assembramenti in azione alla polizia locale e gli autisti. Mi sembra giusto sottolineare l'opera meritoria degli autisti dei bus che stanno veramente svolgendo nelle stazioni delle corriere dove ci sono gli assembramenti delle funzioni da operatori sociali. Questi lavoratori stanno controllando, evitando assembramenti e controllando gli studenti per l'uso delle mascherine.